Sono arrivati ieri mattina all'aeroporto di Cagliari i primi turisti con i voli internazionali. Dopo il lungo periodo di restrizioni causa pandemia coronavirus, sono stati accolti nel capologo Sardo i passeggeri col volo proveniente da Amsterdam, che a loro arrivo sono stati omaggiati con un gel igienizzante per le mani al profumo di mirto, distribuito dalla Coldiretti e prodotto dalla ditta Farmazinara, che realizza i suoi prodotti nell'omonima isola, ex sede del carcere di massima sicurezza. Il nostro è un piccolo gesto, ha dichiarato il presidente della Coldiretti di Cagliari, Giorgio De Murtas, un omaggio utile ma allo stesso tempo evocativo della Sardegna, con un profumo che è il simbolo della nostra terra per accompagnare i turisti in sicurezza in una vacanza covid-free. Un volo particolarmente atteso nello scalo di Elmas che ha registrato, a causa del lockdown, un meno 99,86% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi è un giorno di festa per tutti, ha detto De Murtas, con l'augurio che sia la giornata dalla vera ripartenza per l'economia isolana.